ok siamo tornati qui per il format dei video voglio dirvi ma davvero ci sono persone che nel 2021 si professano comuniste c'è questo quando disse in diciamo una categoria di persone non una sola comuniste nel 2021 io non lo dico perché sono un borghese di buona famiglia e quando morirò mio zio erediterò un patrimonio talmente cospicuo da poter comprare le vostre vite ma perché il capitalismo è la miglior cosa che sia mai successa nella storia dell'umanità appunto a noi umani quindi di che parliamo non parliamo di niente bella